Aveva più volte affermato che, concluso il suo secondo mandato a Cassugana, si sarebbe preso un periodo sabbatico. Giampaolo Gobbo, invece, dovrà rimandare il riposo. Il sindaco uscente sarà il capolista della Lega Nord alle prossime comunali del 26 e 27 maggio. Gobbo sosterrà quindi in prima persona Giancarlo Gentilini come suo erede nella corsa verso il comune. Una candidatura forte anche per ribadire la volontà di ricompattare il partito in vista dell'obiettivo elettorale, dopo le diatribe interne che hanno portato al commissariamento della sezione provinciale di Treviso. La lista del carroccio è ormai pronta e verrà presentata ufficialmente sabato prossimo. Oltre allo stesso Gobbo, si annunciano alcuni ritorni, come quello di Luciano Donner, già consigliere comunale, parlamentare leghista, o di Antonio Gentilini, figlio minore dello sceriffo, già ai 300, nella passata legislatura. Tra gli altri nomi, quello di Riccardo Barbisan, giovane vicepresidente del Consiglio Comunale, e di Christian Schiavon, attuale consigliere di amministrazione di ATS, la società di gestione dell'Acquedotto, e poi svariati altri volti nuovi. Non sarà della partita, invece, il consigliere uscente Sergio Novello, che ha deciso di non ricandidarsi. Ad affiancare la compagine ufficiale del partito, come al solito, una lista personale di Gentilini. Tra i possibili alfieri, come già nel 2008, l'ex ufficiale dell'aeronautica e meteologo Giancarlo Janicelli. Io stesso avevo detto, tanto è vero, che fino a questa mattina io ero convinto di non partecipare a questa elezione del Comune di Treviso. ma, visto che gli amici Gentilini, l'amico Gentilini, mi ha chiesto di entrare come capolista della Lega, e visto che la Lega a Treviso l'ho fatta io, ho ritenuto opportuno di fare quest'ulteriore passo. Intanto faccio il capolista, poi non ho idea di applicarmi in altre situazioni, ma invece di creare qualcosa che possa continuare quella che è la conduzione amministrativa della città di Treviso. È una lista di persone che nella città sono conosciute e si danno da fare e si daranno ancora più da fare. La difficoltà della Lega è inutile negarlo, ma comunque io credo che possa essere un passo per riavvicinare varie anime leghiste. Oggi c'è una crisi notevole, crisi soprattutto che colpisce quell'elettorato, parlo appunto di commercianti, artigiani, operai, e quindi io credo che in questo momento si debba continuare a dare quello che si è sempre dato per un ideale, ma soprattutto per i propri cittadini. Grazie.